Buon pomeriggio, è giovedì e dovrei fare la solita rubricchia del giovedì dove commento qualche lettera, qualche sfogo di qualcuno o qualcuna sul sito del mio dottore, però ne ho trovata una proprio di oggi o di ieri che fa proprio il caso nostro e fa il caso nostro anche per un'altra cosa, quindi permettetemi di divagare appena appena dal tema, poi vi leggerò la lettera. Lunedì noi iniziamo un nuovo seminario di 10 lezioni, il tema sarà storia della filosofia o il filosofare, per la storia della filosofia prenderemo a prestito delle lezioni di Domenico Rosacci che è uno storico della filosofia a livello universitario molto bravo, molto che conosce tutte le cose. Una delle cose che in effetti noto in quest'epoca dopo 40 anni, in 40 anni che ho notato è che le persone sono seriamente disinformate, culturalmente disinformate proprio sul campo della filosofia. io stesso ho insegnato filosofia, a me dava noia fare storia della filosofia, ma devo tener conto che un'epoca di disinformazione totale soprattutto sulla storia della filosofia, penso che la storia della filosofia abbia un ruolo fondamentale in quest'epoca, fondamentale anche per la psicoterapia, perché molte cose e molti guai e molte situazioni che in 40 anni ho incontrato, ma soprattutto negli ultimi anni sto incontrando la causa vera di questa sofferenza e delle persone che si vanno a infilare nei guai e non ne sanno uscire, molto dipende da una visione, da una mancanza di confronto tipico della storia della filosofia con tanti punti di vista che riguardano l'uomo. È il modo di vedere il mondo, di vedere se stesso dell'uomo, questa è la filosofia. è un raccontare come quest'organo di molte persone ha guardato il mondo e l'ha sistemato e di come molte persone che sono tra i filosofi più quotati non si sono troppo dedicati a dare descrizione di ciò che è esterno, ma mi sono dedicati soprattutto a entrare qui dentro la scatola e a dirci come funziona questa scatola, in che guai si infila e come ne può uscire. bene, ora che vi ho fatto questa premessa e vi ho invitato a questo seminario di 10 lezioni, è già partito l'altra settimana abbiamo fatto un incontro gratuito, beh, vi metterò sulla mia pagina tutto l'incontro gratuito che abbiamo fatto lunedì passato, spero che lo guardiate, spero soprattutto perché è importante questo seminario, è molto importante, questo contrapunto che faccio con uno storico della filosofia è molto quotato, che sanno un sacco di cose, che spazio dal mondo antico al mondo super moderno, che va più in voca del taoismo, dello zen e del buddismo, dell'induismo, beh, è una manna per me. Io, uno psicologo dovrebbe più sapere come funziona quest'ordine, dovrebbe, la differenza fra un filosofo, lo vedremo, alcuni di questi filosofi che andremo a scomodare in questo seminario, sono più psicologi che filosofi, perché si occupano in un modo eccellente e rispondono alla domanda di come funziona quest'ordine. Io sono laureato in filosofia e faccio lo psicoterapeuta, questa doppia laurea mi distingue, è proprio il fatto di aver imparato tanti punti di vista che riguardano sia il mondo esterno e quindi la produzione di quest'ordine, sia la produzione di una parte di quest'ordine, cioè la nostra mente umana che riguarda come oggetto di indagini tutto l'organo, tutte le sue capacità, tutte le sue deficienze, tutti i suoi difetti e come uscirne, tutti i suoi guai, ma soprattutto risponde alla domanda come si fa a desiderare e a realizzare senza andare a finire prima all'inferno, perché questo è il compito del filosofare e questo tipo di filosofare è essenzialmente psicoterapia e ora ve lo dimostro e vi dimostro perché per quale motivo questa ragazza qui ti fa questo sfogo? E non è uno sfogo così banale come ho contemplato una tempesta, ce ne siamo cavati a stento, pioveva da morire, siamo andati a finire non so dove, ci siamo ritrovati al perso, è un descrivere il perdersi della mente e in questo perdersi, il perdersi del corpo, perché quando la nostra mente non sa che fare i suoi pensieri diventano azioni, ma diventano azioni dolorose per il nostro corpo e non c'è da sottovalutare questa faccenda, ed ecco cosa ci dice questa ragazza, e parla un linguaggio tipico della psicoterapia, perché di queste cose qui, di questa filosofia si occupa di questo cervello, ne parlano, ne sparlano, e non la possiamo classificare tra quelli che fanno i filosofi e psicologi, ma spesso e volentieri, dobbiamo dire, con una certa forzatura li facciamo di rientrare fra i filosofi e psicologi o psicoterapeuti, se proprio li vogliamo collocare certe volte, nell'ambito della storia e della filosofia, molti di loro risentono, se non tutti, se non la maggior parte non tutti, no, eh, risentono ancora di un tipo di filosofare che riguarda quest'orgono, le modalità di quest'orgono, non al mondo moderno, ma ora vedrete, eh, Domenico Rosaccio ci fa una panoramica, da tempi di Socrate e dei Sofisti fino alla fenomenologia dello Spiso, fino ai Buddhisti, fino agli Hinduisti, fino al Taoismo e soprattutto ci fa una panoramica su quello che ormai è diventato una specie di filosofia comune in occidente, hm? L'orientalismo, il modo di pensare all'orientale, è di moda, hm? Però, hm? Le persone, malgrado questo orientalismo, io sono stato sempre felice di sapere che esistono delle persone, hm? che hanno fatto arti marciali, che amano l'Oriente, perché in effetti l'Oriente è una filosofia che riguarda quest'organo, ma anche se non è un'informazione precisa, di tipo filosofico, di confronto con tanti altri punti di vista, il semplice e puro orientalismo è diventato un semplice e puro buonismo, hm? Che poi, hm? Appena la nostra mente ha da risolvere un problema, la nostra mente va, hm? a scavare in ciò che è più certo, si attacca a ciò che è più certo, hm? per potersi, hm? difendere e per difendere il proprio corpo, che è un organo che cerca di difendere il proprio corpo. quindi l'informazione è molto importante, hm? e quindi un'informazione che da prevalenza al funzionamento della mente e poi andare a guardare il mondo esterno e a guardare anche le nostre azioni e l'azione degli altri, questo sarebbe il metodo, hm? questo sarebbe il modo che uno psicoterapeuta deve insegnarvi, in modo che non si esca, in modo che si possa non entrare nei guai e soprattutto un modo per uscirne. e guardiamo uno di questi guai e la domanda è, per risolvere una sindrome ansiosa con forti tratti ossessivi, hm? vedi, sta usando tutta una terminologia moderna. sindrome vuol dire un insieme di sindrome dove l'ansia è l'elemento centrale con forti disturbi ossessivi, quindi l'ansia è il sindrome centrale e ci sono le ossessioni. a csm, hm? l'accento di igiene mentale mi è stata, hm? predisposto a una terapia iniziale con sertalina, non so che, cinquanta, a cui tra quindici giorni dovevo aggiungere danzapina, non so che, roba da psichiatra. non so che, non so se una dose così lieve, hm? di certa, certa lina sia stata responsabile, attenzione, ha preso sta medicina, hm? e da quando ho iniziato ad assumerla, cioè da pochi giorni, un aumento di pensieri che mi causano ansia e che mi obbligano a verificare che il mio esame di realtà sia integro. ora, chi gli ha parlato di esame di realtà, non certo il suo professore di filosofia, non certo i suoi studi filosofici, hm? ma sicuramente, hm? o uno psicologo, o uno psichiatra, hm? che nel dire che il suo esame di realtà non è proprio, hm? dei migliori, cioè non è normale. normale vuol dire non è comune a quelle degli altri, non è comune nemmeno al mio, hm? che faccio, hm? nello psicoterapeuta o che faccio lo psichiatra. per cui ciò che non è comune, hm? ecco, la cattiva informazione comincia da qui. ciò che non è comune è una malattia. ora lei ha assorbito questa informazione, hm? da chi? l'ha valutato. ha valutato il suo modo di pensare non conforme è più. quindi in altri termini. che cos'è un disturbo psicologico, una malattia mentale partendo da questo? eh, andiamo qua almeno a studiare storia della filosofia dai vari punti di vista. almeno ci facciamo un'idea che non esiste un solo modo di vedere il mondo. e già questa informazione potrebbe aiutare un sacco di persone, hm? perché? non sentendosi sbagliati, hm? accettano il loro peculiare modo di pensare e non si preoccupano più di tanto. perché se io voglio essere prima perfetto e poi muovermi, non mi muoverò. ma se, anche sbagliando, accetto il mio modo di essere, come uno dei tanti modi di essere, hm? e lavoro, mi occupo, in fondo quest'orgon si deve occupare della pancia che deve mangiare, hm? e non deve stare a filosofare a vita. e se vuole filosofare deve sapere fin dove deve filosofare e quando deve smetterla di filosofare, hm? su che cosa deve filosofare? ecco, hm? l'importanza di questo seminario che sto propagandando un po' a tutti, hm? e sto sfruttando questo tempo ancora una volta per propagandare questo seminario perché una delle cose che sto notando è del fatto questa ragazza non stava lì a menarsela se non aveva avuto tutte queste informazioni qui dove fra le righe le informazioni che ha avuto l'hanno fatta sentire sbagliata e la filosofia o la storia della filosofia difficilmente ti fa sentire sbagliata perché sono tanti i punti di vista spesso, molte volte, diametralmente opposti e tutti sono lì felici e contenti a chiacchierare, hm? e a guadagnare chiacchierando, hm? bene da quando ho iniziato ad assumere, hm? cioè da pochi giorni ho notato un aumento di pensieri che mi causano ansia e che mi obbligano a verificare, hm? che il mio esame di realtà sia integro attenzione, guardate questa cattiva informazione che sto facendo due cose uno, non sei normale quindi sei malato due se ti capitano queste cose perché il tuo esame di realtà non è integro non è integro vuol dire non è conforme a quelli di tutti gli altri, hm? i tuoi pensieri non sono conformi hm? a questo punto questo tipo di comunicazione spinge l'altro che nessuno di noi vuole essere diverso dagli altri ognuno di noi vuole fare la pecora vuole essere come gli altri e non vuole essere giudicato male stranamente, hm? uno vada lo psichiatra vada lo psicologo per sentirsi accolto accettato è il primo a dirgli che è imbecile che non vale un cacchio anche dall'alto della cosiddetta scienza quindi della cosiddetta verità è che lui hm? non ha un pensiero integro che riguarda la realtà hm? e che quindi non è proprio normale hm? cioè sono normale sono diverso vuol dire che sono malato in questa epoca questa è la comunicazione ho paura che le ossessioni che nel mio caso sono incentrato proprio sulla paura di sviluppare una psicosi hm? ecco anche questo termine dove l'è andata a trovare? sei informata qualcuno l'ha informata così ha forse fatta la domanda che differenza c'è fra la psicosi e la nevrosi e così questo genere se volete ve la do ora una spiegazione molto semplice hm? nella differenza tra il nevrotico il normale e lo psicotico hm? beh per il nevrotico hm? due più due fanno quattro ma mi dispiace per lo psicotico per lo psicotico due più due fanno cinque gli sta bene per il normale due più due fanno quattro e va bene così ricordatevi questo semplice schema la differenza la differenza fra la psicosi la nevrosi e la psicosi la psicosi la psicosi dice due più due fanno cinque e lui sta bene hm? il nevrotico due più due fanno quattro lo sa come ha un perfetto esame della realtà ma il problema suo hm? che gli procura uno dei tanti una delle tante diagnosi psichiatri del disturbo mentale è che non mi sta bene hm? quindi la nostra felicità dov'è? il normale è colui che hm? vede la stessa realtà che vede hm? il nevrotico cioè due più due fanno quattro bello buona che sia il normale dice vabbè è stata è fatta così e vediamo come dobbiamo fare eh? vi do la differenza hm? il nevrotico non gli piace alla fin fine hm? lo psicotico dove due più due fanno cinque va bene uguale e vive bene come è normale hm? posso anche pensare che la fin fine lo psicotico dal punto di vista della felicità è forse l'essere umano più felice di questo mondo hm? perché gli sta bene anche ciò che è assurdo ad esempio se iniziassi a non essere più sicuro del mio corpo sia il mio hm? e a percepirlo come estraneo e se credessi che oggetti inanimati i muri di casa e il disegno delle mattonelle e del pavimento mi osservi mi osservi no? so bene che si tratta di idee assurde attenzione eh? ma non le liquida come un fatto normale o idee assurde perché qualcuno gli ha appiccicato un'etichetta hm? ha detto che quella è una forma di ossessione hm? a quel punto l'idea che sono sbagliato l'idea che mi è sbagliato che il mio modo di pensare diversamente dagli altri sbagliati è errato una malattia fa sì hm? mi produce l'ossessione di andare ad osservare perché da dove nasce questa ossessione? questo organo ha come finalità proteggerlo qualcuno mi sta dicendo hm? con termini che non conosco manco troppo bene che sono malato che mi può capitare di peggio ma scusate proprio perché sono sano di mente cercherò di proteggere cerco di ragionare e tutto il mio ragionamento ossessivo ha come finalità la protezione di me è forse una malattia il fatto che voglio proteggermi e se mi proteggo male è solo perché ho assorbito e stranamente proprio dagli psicoterapeuti da coloro che non dovevano dovevano stare attenti a darmi delle informazioni giuste che riguardava quest'organo hm? sono proprio loro sottolineando fra le righe che se non ragiono come gli altri hm? sono sbagliato o peggio sono malato sono proprio loro che mi stanno spingendo a tentare hm? a fare un tentativo di iper protezione perché mi hanno posto davanti lo spauracchio che queste mie sensazioni hm? e nessuno mi ha rassicurato che più o meno ce l'abbiamo tutti hm? e nessuno ha detto oh da buono non andare oltre questo hm? nessuno mi aveva allevato hm? in una filosofia di tanti punti di vista come può essere la storia della filosofia hm? che nel seminario che faremo lunedì hm? che sarà online e in presenza hm? e lo faremo qui quelli che possono venire vengono quegli altri hm? hm? e si collegano su sulla piattaforma di di zoom hm? per avere il link dovete chiedere a Chiara Massanti hm? o a Paolo Marchetto ma soprattutto mettetevi in contatto con Chiara Massanti vi iscrivete l'iscrizione però non è un dato che abbiamo già fatto una lezione gratuita l'iscrizione comporta hm? il versamento hm? su posti peghi quelli che stanno lontani se quelli che vengono qui pagano qui hm? di 200 euro sono 10 lezioni non credo che costino un'infinità sono 20 euro a lezione che finalmente tolgono di mezzo speriamo che riusciamo a togliere di mezzo tutta questa spazzatura che riguarda l'uomo venduta anche come il massimo dell'evoluzione dell'uomo sulla faccia della terra in quest'epoca quando è il massimo dell'involuzione della conoscenza dell'uomo non per nulla le persone hanno tutti questi cavoli di disturbo vedete come da dove nascono questi disturbi la ragione vera di questo disturbo è proprio questa comunicazione che vi sto leggendo vedete come da una parte all'altra alla fine questa donna gli hanno detto che può diventare psicotica non può avere un buon esame della realtà e non avendo un buon esame della realtà uno dei sintomi ecco e lei si chiede e se addirittura i muri le mattonelle possono parlarmi vedete in anticipo cosa sto facendo perché qualcuno gli ha già suggerito che questa non aderenza questo non perfetto esame della realtà ha dato qualche esempio senza nessun ritegno senza tener conto che quest'organo tende a proteggersi e che quest'organo fa un errore enorme quando si vuole proteggere quello che di voler prima sapere può fare nessuno di questi che gli ha dato questa informazione ha tenuto conto esso stesso che nel dire certe cose spingeva l'organo dell'altro il cervello dell'altro a iper proteggersi e a tentare di iper proteggersi dimenticandosi totalmente che non è onnescente che quindi non può prima sapere può fare ci vuole o non ci vuole un bel po' di filosofie nello stesso tempo ci vuole che qualcuno racconti la filosofia e che qualcuno sia lì a filosofare insieme a voi e a spingervi a filosofare in modo da usare da presupposti corretti esatti di come funziona non fasulli ma esatti di come funziona nei nostri sensi di come funziona quest'organo che interagisce col mondo esterno in modo che quella parte tipica della specie umana che può riflettere su quello che quest'organo fa su quello che le mie mani fanno su quello che la mia mente stessa fa quando pensa o quando agisce può trovare il bambolo della matassa per proteggermi nel modo più sicuro possibile perché questo è il fine di quest'organo e quest'organo purtroppo ha una parte di sé che deve sapere come funziona perché la funzione umana che sta a cavallo dell'intelligenza animale che abbiamo in comune con gli animali è una funzione che sa e per rivolgersi al mondo esterno e per potersi salvare deve soprattutto sapere come funziona quest'organo e in che trappole si va a infilare quindi il discorso ampio sul piano filosofico ci indicherà i vari punti di vista di tanta gente per dirci guarda le persone la possono pensare in modo strano diverso l'uno dall'altro una di queste visioni può essere uguale anche alla tua per cui a quel punto è ma al comune mezzo gaudio non mi sento sbagliato se vedo che qualcuno nella storia aveva le mie stesse minchiate e poi ha fatto questo ha fatto quest'altro è riuscito a vivere per bene questa è la storia la storia è un maestro di vita è già psicoterapia perciò in questo seminario do abbastanza spazio alla storia della filosofia per quanto riguarda il filosofare è interazione nella sera e in questo seminario sarà tutto un filosofare non vi preoccupate buonasera ricordatevi di iscrivervi ora ora vi do il numero di telefono della Chiara Massanti 338 70 56 680 vedo anche il mio perchè qualche volta la Chiara Massanti lavora e non vi risponde 329 61 34 223 va bene? buonasera qui è qui qui è qui è qui è qui